buongiorno vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo ariete vi potreste ritrovare svegliati con il piede sbagliato l'umore potrebbe non essere dei migliori toro non mostrarti geloso con la persona che ti interessa affetto in famiglia attenzione invece agli amori segreti gemelli su quello che farete oggi mantenete il segreto più assoluto meno si sa meglio sarà per voi cancro è in arrivo l'amore tuttavia badate che tornerà una vecchia fiamma leone una telefonata in serata vi metterà di buon umore la luna ti renderà invece impulsivo testardo e polemico vergine un progetto che avete in mente non aspetta altro che essere iniziato rimuovete la pigrizia che in voi e datevi da fare bilancia giornata che parte allegra anche se il pomeriggio potrebbe essere velato da qualche piccola malinconia scorpione mettete in conto ogni situazione che potrebbe imbarazzarvi oggi potreste ricevere qualche piccola offesa sagittario ritorni di fiamma in vista amori nuovi invece per i nati di mercoledì capricorno sarà alle prese con colpi di scena in amore voglia di divertirti poca invece di lavorare acquario incertezze dal punto di vista economico non fate passi falsi o azzardati pesci difficoltà di dialogo con il proprio partner possibili momenti di sconforto a causa di piccole storie passate critica invece dai parenti questo è tutto al prossimo appuntamento con l'oroscopo ciao ciao